benvenuti ragazzi parliamo questa volta del canto undicesimo del purgatorio finalmente siamo entrati nel purgatorio vero e proprio e siamo nella prima cornice laddove c'è il peccato da dove si sconta il peccato più grave e cioè la superbia perché voi sapete che i peccati nel purgatorio vanno dal più grave che è la superbia al meno grave che è la lussuria allora i superbi come vengono puniti sempre secondo la legge del contrapasso come in vita sono stati altezzosi quindi hanno guardato gli altri dall'alto in basso e adesso sono costretti a camminare curvi sotto pesanti massi infatti sono così curvi che non riescono neanche a guardare in viso dante e i personaggi chi sono dante e la sua guida virgilio e poi incontreremo tre personaggi che rappresentano tre tipi particolari di superbia perché omberto degli addobrandeschi rappresenta la superbia derivata dal titolo nobiliare cioè la superbia derivata dal sangue dalla stirpe nobiliare odelisi da gubbio rappresenta la superbia dell'ingegno e dell'arte c'è la superbia derivata dalla consapevolezza dell'altezza del proprio ingegno e qui abbiamo un motivo autobiografico perché dante si identifica e si sente colpevole di questo tipo di superbia e infine provenzano salvani rappresenta la superbia derivata dal potere politico allora qual è il tempo dell'azione sono le ore 11 quindi mattinata dell'11 aprile del 1300 il lunedì di pasqua andiamo alla prima sequenza allora nella prima sequenza dove abbiamo i versi dall'1 al 24 i superbi recitano il padre nostro noi sappiamo che le anime del purgatorio stanno sempre insieme ecco vedete vedete questi superbi vedete questi superbi che camminano con la cervice cioè con la nuca diciamo piegata da questo grosso masso che li fa camminare curvi e al contrario di come invece avevano guardato gli altri in vita e che vi stavo dicendo e allora sappiamo che le anime del purgatorio cantano insieme pregano insieme anche qui e questi superbi stanno insieme e insieme recitano la preghiera per eccellenza quella che Gesù Cristo ha insegnato nel vangelo e cioè il padre nostro di cui Dante ci fa una parafrasi esplicativa perché questo padre nostro recitato in questi primi 24 versi dai superbi è un padre nostro più lungo di quello che si recita in chiesa è un padre nostro in in cui alcune parti della preghiera vengono spiegate e rese ancora più esplicita perché proprio il padre nostro perché i superbi recitano proprio il padre nostro è una preghiera in cui i superbi dicono per ben sette volte noi ecco qua per ben sette volte noi quindi per ben sette volte pronunciano il pronome personale di prima persona plurale e per ben quattro volte usano l'aggettivo nostro ad indicare appunto la coralità di questa preghiera detto questo è una preghiera in cui i superbi chiedono la pace la pace la quotidiana manna che sarebbe allora un riferimento biblico alla manna che dio mandò nel deserto agli ebrei che stavano attraversando il deserto però qui naturalmente questa parola come anche la parola diserto che rappresenta la vita è una metafora e quindi e quindi indica la grazia divina e poi chiedono il perdono e chiedono anche l'aiuto per essere liberati dalla tentazione tra l'altro quest'ultima grazia non la chiedono per loro ma la chiedono per coloro che dietro a noi restaro cioè per i vivi per quelli che sono rimasti ancora vivi e detto questo quindi è una preghiera che i superbi fanno per loro ma è una preghiera che fanno anche per i vivi e infatti subito dopo abbiamo la riflessione di dante su questa cosa è una preghiera in cui i superbi sottolineano i limiti della natura umana e lo sottolineano ai versi 8 9 ai versi 14 15 e poi ancora ai versi 18 19 e scusatemi 17 18 ed è importante e significativo il fatto che in questa preghiera si sottolinei i limiti della natura umana perché queste sono state persone che hanno peccato di arroganza che hanno peccato di hubris no non hanno riconosciuto i loro limiti e si sono sentiti superiori agli altri allora leggiamo o padre nostro che nei cieli stai non circoscritto ma per più amore che ai primi effetti di lassù tu hai laudato sia il tuo nome e il tuo valore da ogni creatura come degno di rendere grazie al tuo dolce vapore vegna ver noi la pace del tuo regno che noi ad essa non potem da noi se la non viene con tutto nostro ingegno come del suo voler gli angeli tuoi fan sacrificio a te cantando osanna così facciano gli uomini dei suoi da oggi a noi la quotidiana manna senza la qual per questo aspro diserto al re trovà chi più di gir s'affanna e come noi lo mal che avemmo sofferto perdoniamo a ciascuno e tu perdona benigno e non guardarlo nostro merto nostra virtù che di degger s'adona non sperimentare con l'antico avversario ma libera da lui che stila sprona quest'ultima preghiera signor caro già non si fa per noi che non bisogna ma per color che dietro a noi restaro allora o padre nostro che stai nei cieli non perché sei limitato circoscritto ai cieli ma per un maggiore amore che hai nei confronti delle prime cose create lassù cioè dei cieli laudato sia il tuo nome e sarebbe il figlio il tuo valore che sarebbe il padre laudato sia da ogni creatura come degno anche di rendere grazie al tuo dolce spirito cioè allo spirito santo quindi qui abbiamo indicata proprio la trinità figlio padre e spirito santo venga per noi la pace del tuo regno che noi non possiamo da noi cioè con le sole nostre forze arrivare ad essa se essa non viene nonostante tutto il nostro ingegno ecco vedete questi sono i primi versi in cui vengono sottolineati i limiti della natura umana da soli non si può arrivare alla pace senza l'aiuto divino nonostante tutto il nostro ingegno come gli angeli tuoi sacrificano a te la loro volontà cantando osanna così facciano gli uomini delle loro volontà da oggi a noi la quotidiana manna cioè la quotidiana grazia senza la quale per questo aspro per questo difficile deserto che è la vita si va indietro va indietro chi più si affanna ad andare avanti quindi allora la vita è paragonata ad un deserto e così come il luogo in questo momento in cui loro si trovano perché stanno scontando le loro pene e appunto senza la grazia divina non si può andare avanti anzi gli uomini proprio per i loro limiti e quanto più si affannano ad andare avanti ecco tanto più vanno indietro e come noi perdoniamo a ciascuno il male che abbiamo sofferto anche tu perdonaci benevolo e non guardare i nostri meriti ecco e ancora una volta si sottolineano i limiti della natura umana come come si era già fatto va bene nei versi 14 15 allora perdonaci benevolo e non guardare i nostri meriti che sono purtroppo quelli che sono cioè limitati la nostra virtù che facilmente si scoraggia non mettere alla prova con l'antico avversario che sarebbe il diavolo ma libera da lui che così tanto la incalza quest'ultima preghiera caro signore non si fa per noi perché noi non ne abbiamo più bisogno in quanto naturalmente essendo nel purgatorio e quindi sono ormai liberi dalla tentazione sono ormai liberi dalla possibilità di una dannazione quindi fanno questa preghiera per coloro che restarono dietro di noi cioè per i vivi quindi è una preghiera diciamo fatta su due fronti perché da un lato i superbi pregano per loro e dall'altro pregano anche per i vivi ed è quello che sottolinea dante e qui abbiamo nella seconda sequenza in queste quattro terzine dal verso 25 al verso 36 l'intervento dell'io narrante che sottolinea appunto come queste anime hanno fatto questa preghiera anche per noi vivi e allora noi vivi dobbiamo pregare per loro così a sé e noi buona ramogna quell'ombre orando andavano sotto il pondo simile a quel che talvolta si sogna disparmente angosciate tutto a tondo e l'asse su per la prima cornice purgando la caligine del mondo se di là sempre ben per noi si dice di qua che dire e far per lor si puote da quei che hanno al voler buona radice ben si de loro a tar lavar le note che portar quinci sicché mondi e lievi possano uscire alle stellate ruote così per sé allora così quelle anime pregando buona ramogna c'è un buon augurio per per sé quindi per loro stessi e per noi vedete vedete appunto come questa preghiera ha appunto due oggetti loro stessi e noi vivi andavano sotto il pondo cioè sotto il peso di questo macigno simile a quel peso che talvolta si sente sullo stomaco quando si sogna capita soprattutto quando si è fatta una cattiva digestione diversamente angosciate tutte a tondo perché la cornice è a cerchio e stanche su per la prima cornice purgando purificando i peccati la caligine del mondo dice dante e allora dante fa questa riflessione con una domanda retorica dice se di là sempre per noi si augura il bene di là nel purgatorio di qua che si può dire che si può fare per loro da parte di coloro che hanno al voler buona radice cioè da parte di coloro che sono nella grazia di dio e che quindi possono pregare per queste anime naturalmente questa è una perifrasi per indicare appunto i benefattori di queste anime quelli che pregano per queste anime di là purgatorio di qua terra quindi sono in antitesi per noi per loro naturalmente sempre in antitesi per noi vivi per loro per loro anime del purgatorio quindi queste antitesi formano anche un chiasmo no perché di là sa per loro per noi sa con di qua e quindi dante afferma appunto dice si deve aiutare loro a purificare i peccati che portarono da qui sicché purificati e leggeri possano uscire verso i cieli stellati verso diciamo le stelle verso il paradiso adesso nella terza sequenza che va dal verso 37 al verso 45 interviene virgilio con la sua solita domanda su quale strada prendere soprattutto perché dante ha un corpo e quindi il suo corpo lo trascina verso il basso per cui virgilio chiede a queste anime qual è la salita più facile e meno ripida in maniera tale che ci possa salire anche dante che possiede appunto un corpo sentiamo virgilio dè se giustizia e pietà vi disgrievi tosto sicché possiate muover l'ala che secondo il disio vostro vi lievi mostrate da qual mano in ver la scala si va più corto e se c'è più d'un varco quel ne insegnate che menerto cala che questi che vi è in meco per lo incarco della carne d'adamo onde si veste al montar su contra sua voglia e parco allora la solita abbiamo qui la solita captatio benevolentia con cui virgilio si rivolge alle anime augurando loro con sé desiderativo di arrivare presto in paradiso infatti cosa dice dè posta la giustizia e la misericordia divina liberarvi presto dal peso sicché possiate muovere le ali cioè quindi salire in alto verso dio naturalmente ala è una metafora per indicare proprio la liberazione dal peccato sicché possiate appunto muovere le ali che secondo il vostro desiderio vi sollevi in alto quindi sicché possiate andare in paradiso mostrateci da qual parte da qual parte si va più velocemente verso la scala e se c'è più di un varco insegnateci quello che è meno ripido la cornice del purgatorio aveva una vera e propria scala che saliva ecco perché virgilio parla di scala naturalmente vuole la salita chiede la salita meno ripida infatti lo spiega che questi cioè dante che viene con me per il peso del corpo della carne d'adamo da cui è rivestito è lento a salire nonostante la sua volontà cioè anche contro la sua volontà è lento a salire il peso della carne d'adamo perché il corpo comunque per quando riguarda il corpo non c'è solo il significato fisico della legge di gravità che naturalmente spinge il corpo verso il basso ma anche un significato allegorico in quanto il corpo secondo la mentalità medievale rappresenta il peccato perché rappresenta appunto i beni terreni e quindi le insidie del peccato ecco perché il corpo di dante è un ostacolo nella salita verso il paradiso nella salita per le cornici del purgatorio allora a questo punto risponde un'anima che dante neanche capisce chi è che parla comunque è l'anima di Umberto degli Adobrandeschi un nobile molto conosciuto in Toscana e infatti il personaggio come abbiamo detto prima rappresenta la superbia derivata proprio dalla sirpe nobiliare le loro parole che rendero a queste che dette avea colui cui io seguiva non fur da cui venissere manifeste ma fu detto a man destra per la riva con noi venite e troverete il passo possibile a salire persona viva e se io non fossi impedito da sasso che la cervice mia superba doma onde portar conviemmi il viso basso cotesti che ancora vive e non si no ma guarderei io per vedersi il conosco e per farlo pietoso a questa soma io fui latino e nato d'un gran tosco Guglielmo Adobrandesco fu mio padre non so se il nome suo giammai fu bosco l'antico sangue l'opere leggiadre di miei maggior mi fer si arrogante che non pensando alla comune madre ogni uomo ebbe in despetto tanto avante che io ne morì come i sanesi sanno e sallo in campagnatico ogni effante io sono Umberto cioè il figlio e non pur a me danno superbia fa che tutti i miei consorti a ella tratti seco nel malanno e qui convien che io questo peso porti per lei tanto che a dio si soddisfaccia poi che io non fè tra i vivi qui tra i morti Allora Allora riprendiamo scusate l'interruzione le loro parole che vennero risposte a colui che io seguivo per i frasi per indicare Virgilio non si capì da chi venissero ma fu detto venite con noi dalla parte destra su per la parete e troverete il passo che è possibile a salirvi per una persona viva e questo che parla è Umberto degli Adobrandeschi va bene infatti vediamo Dante che sta guardando e se io non fossi impedito dal sasso che piega il mio collo superbo onde mi conviene, mi è necessario, sono costretto a portare il viso basso guarderei io costui che ancora vive e non dice il suo nome per vedere se io lo conosco e per renderlo pietoso di questo peso Ecco, Guglielmo, Umberto degli Adobrandeschi si rammarica di non poter guardare in faccia Dante ma questa come abbiamo detto prima è proprio la validità della pena del contrapasso il significato della pena del contrapasso il fatto che queste anime così altezzose che in vita guardavano tutti dall'alto in basso adesso invece sono costretti loro a guardare in basso e non possono alzare la testa a causa di questo enorme peso che portano sul collo Comunque, adesso Umberto si presenta Io fui latino, cioè italiano, e nato da un gran toscano ecco, come se ancora nelle sue parole rimanesse un residuo dell'orgoglio nobiliare mio padre fu Guglielmo Adobrandeschi non so se il suo nome, insomma, fu già mai con voi cioè non so se voi conoscevate il suo nome vedete, come se rimanesse un residuo di questo orgoglio nobiliare e comunque, chi era Umberto degli Adobrandeschi? Umberto degli Adobrandeschi apparteneva veramente ad una nobile famiglia toscana e questa famiglia erano signori della contea di Santa Fiore che era uno dei feudi di proprietà dell'imperatore e in particolare Umberto era signore del castello di Campagnatico furono per molto tempo nemici giurati dei senesi soprattutto Umberto e infatti la sua morte, ecco, come morì, dice Umberto, lo sanno proprio i senesi e ci sono due versioni diverse sulla sua morte la prima dice che Umberto degli Adobrandeschi con la sua superbia, con la sua arroganza provocò così tanto l'odio e la rabbia dei senesi che i senesi mandarono dei sicari che lo uccisero nel suo letto un'altra versione è che Umberto morì combattendo contro i senesi difendendo contro i senesi il castello di Campagnatico comunque in ogni caso, come appunto dice lui stesso a Dante furono proprio i senesi provocati dalla sua arroganza a volere la sua morte e a Campagnatico perché la sua morte avvenne comunque nel castello di Campagnatico lo sa anche un bambino allora, l'antico sangue e le opere leggiadre quindi l'antica stirpe nobiliare e le grandi imprese degli antenati ecco, come vedete anche qui abbiamo un chiasmo A, B, B, A sangue con opere, antico con leggiadre ecco, quindi l'orgoglio della stirpe nobiliare l'orgoglio del sangue e poi anche l'orgoglio degli antenati vedete le grandi imprese dei miei antenati mi resero così arrogante che non pensando alla comune madre allora, comune madre si può intendere Eva, cioè la comune madre degli uomini oppure la comune madre terra comunque quello che vuole dire Umberto è il fatto che noi uomini siamo tutti uguali perché siamo tutti figli della stessa terra siamo tutti e apparteniamo tutti ad una sola razza che è quella umana e quindi non ci dovrebbe essere questo atteggiamento di superiorità questo atteggiamento di arroganza di superbia non ci dovrebbe essere appunto il sentirsi superiore a un altro perché apparteniamo tutti alla comune madre quindi comunque colui era superbo infatti ogni uomo ebbe indisprezzo tanto che io ne morì come lo sanno i senesi e come lo sa a campagnatico anche un bambino io sono Umberto il figlio di Guglielmo degli addobrandeschi e non solo a me fa danno la superbia ma anche a tutti i miei parenti ma anche tutti i miei parenti a ella condotti con sé nel malanno cioè nel senso che anche i miei parenti anche probabilmente i suoi parenti vivi peccano tuttora di superbia hanno peccato e peccano tuttora di superbia e quindi qui conviene che io porti questo peso per lei cioè a causa della superbia tanto fino a quando io non renda a Dio quella soddisfazione qui tra i morti poiché non l'ho fatto tra i vivi dobbiamo ancora dire due cose intanto che sulla sua morte Umberto si mostra molto redicente dice solo come i sanesi sanno e sanno in campagnatico ogni effante però non racconta nei dettagli a Dante come morì lascia tutto diciamo all'immaginazione di chi lo sta ascoltando quindi diciamo che questa è una reticenza reticenza che si spiega per il fatto che come sapete queste anime non sono ormai legate alla vita terrena anzi sono molto distaccate e tendono invece verso il paradiso una seconda cosa che si deve sottolineare è il fatto che come sapete Dante era uno stilnovista e gli stilnovisti sono proprio quelli che per primi distinsero tra nobiltà di stirpe nobiltà appunto di sangue e nobiltà d'animo dicendo che la nobiltà di sangue non necessariamente può coincidere con la nobiltà d'animo perché la nobiltà d'animo deriva dalla natura e si identifica con l'intelletto e non certo con l'origine con la stirpe col sangue nobiliare ecco anche perché Dante lo sottolinea ancora una volta nel purgatorio dove appunto ci porta l'esempio di un nobile condannato appunto per la sua superbia nel purgatorio proprio per la superbia che gli derivava dall'orgoglio nobiliare bene e siamo arrivati alla quinta sequenza che va dal verso 73 al verso 108 in cui abbiamo l'incontro con Oderisi da Gubbio un miniatore appunto di Gubbio molto famoso che Dante aveva conosciuto probabilmente a Bologna e questo è il momento più autobiografico del canto e si vede anche dall'inizio della sequenza in cui Dante incomincia a camminare Chino come se avesse anche lui un peso sulla nuca ma perché? perché Oderisi da Gubbio rappresenta la superbia derivata dal sentirsi superiore per altezza d'ingegno e quindi la stessa superbia di cui si sentiva colpevole Dante ecco perché Dante si sente già quasi il peso del masso sul collo e comincia a camminare curvo allora ascoltando chi n'è in giù la faccia e un di lor non questi che parlava si torse sotto il peso che l'impaccia e videmi e conobbemi e chiamava tenendo gli occhi con fatica fisi a me che tutto chin con loro andava allora quindi Dante mentre ascoltava aveva parlato aveva finito da poco di parlare Umberto degli Aldobrandesti mentre ascoltava chi n'è in giù la faccia il volto e uno di loro non questi che parlava quindi non Umberto ma un'altra anima si contorse sotto il peso che lo impacciava si contorse naturalmente per alzare gli occhi e guardare Dante e stavolta ci riesce invatti invatti che cosa fa lo vide lo riconobbe e lo chiamò vedete il climax ascendente tenendo gli occhi con fatica fissi a me che tutto chino insieme a loro andavo allora Oderissi da Gubbio riesce a vedere Dante a riconoscerlo e quindi a chiamarlo perché Dante si china anche lui per parlare con queste anime allora ripetiamo i motivi sono due c'è un motivo anche di cortesia un motivo anche pratico ecco quello di farsi riconoscere perché di farsi vedere in viso perché già Umberto degli Aldobrandesti si era lamentato per il fatto che non riusciva ad alzare gli occhi e quindi a guardare in viso Dante e questo è il motivo diciamo letterale ma c'è anche un motivo allegorico cioè il fatto che Dante già si sente chiamato in causa sia perché riconosce che la sua colpa è la superbia sia perché allora si tratta della superbia derivata dall'altezza dell'ingegno una superbia che lo interessa in prima persona oh dissio lui non sei tu oderisi l'onor d'aggobbio e l'onor di quell'arte ch'alluminar chiamata e in parisi frate di stelli più ridon le carte che pennelleggia franco bolognese l'onore è tutto or suo e mio in parte ben non sarei io stato si cortese mentre ch'io vissi per lo grandisio dell'eccellenza ove il mio core intese di tal superbia qui si paga il fio e ancora non sarei qui se non fosse che possendo per car mi volsi addio oh vana gloria dell'umane posse con poco verde in sulla cima dura se non è giunta dalle tati grosse credette cimabue nella pittura tenerlo campo e ora ha giotto il grido sicché la fama di colui è scura così ha tolto l'uno all'altro guido la gloria della lingua e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido non è il mondar romore altro confiato di vento corvien quinci e orvien quindi e muta nome perché muta lato che voce avrai tu più se vecchia scindi da te la carne che se fossi morto anzi che tu lasciassi il pappo e il dindi pria che passi in mill'anni che più corto spazio all'eterno commuover di ciglia al cerchio che più tardi in cielo è torto allora torniamo indietro no torniamo indietro ok ok allora anche Dante lo riconosce e infatti gli dice oh non sei tu oderisi l'onore di gubbio e l'onore di quell'arte che a Parigi è chiamata alluminare cioè alluminare era era l'arte della miniatura qui vedete un esempio di miniatura ripeto Dante conosceva oderisi da gubbio questo famoso miniatore di gubbio che probabilmente aveva conosciuto a Bologna erano dei pittori che facevano le miniature vedete come questa questi piccoli disegni realizzati nelle pergamene disegni che illustravano il contenuto del testo che veniva ricopiato sulla pergamena e ci voleva una certa abilità a disegnare i spazi così piccoli e a disegnare con un'arte molto luminosa con colori molto forti e vivaci e infatti a Parigi l'arte della miniatura è chiamata proprio alluminare ecco dalla luminosità dei colori alluminare in francese allora però adesso vedete uno dei risi da gubbio che era stato così orgoglioso di sé e della sua arte tanto da sentirsi superiore a tutti e adesso riconosce che il suo allievo franco bolognese è diventato più bravo di lui cosa che non avrebbe mai riconosciuto quando era in vita perché in vita ora lo dice lui stesso aveva proprio il desiderio di primeggiare infatti cosa dice a Dante fratello le carte che pennelleggia che dipinge franco bolognese ridono di più ci sono più luminose l'onore è ora tutto suo è mio in parte ecco quindi Oderisi da gubbio riconosce che adesso che lui è morto è stato superato dal suo allievo e dice mentre che io ero in vita cioè finché ero in vita non sarei stato tanto cortese nei suoi confronti cioè non sarei stato tanto disposto a riconoscere la sua bravura per il grande esiderio dell'eccellenza ove mio cuore intese per il grande esiderio di primeggiare che avevo nel cuore ecco di tale superbia qui si paga la pena ecco questo qui questa è la superbia cioè mentre prima abbiamo visto con Umberto degli Aldobrandeschi la superbia derivata dalla stirpe nobiliare questa invece è la superbia che deriva proprio da sentirsi superiore per l'ingegno ecco perché Dante si sente coinvolto in prima persona e ancora non sarei qui se non fosse il fatto che potendo peccare cioè mentre ero ancora in vita mi rivolsi a Dio quindi mi pentì cioè sta dicendo Oderisi che se non si fosse pentito mentre era ancora in vita quindi se si fosse pentito all'ultimo istante della sua vita non si sarebbe trovato direttamente nel purgatorio ma come sapete sarebbe andato prima nell'antiburgatorio adesso Oderisi pronuncia una invettiva contro la vanagloria che deriva proprio dall'ingegno umano vedete o vanagloria della potenza umana dell'ingegno umano dell'intelletto umano come è poco verde ecco qui abbiamo una metafora derivata proprio dalla botanica cioè è come una foglia che rimane verde per poco sulla cima di un albero se non è sopraggiunta da un'età di decadenza e fa altri esempi per esempio Cimabue credette di tenere campo cioè di essere superiore nella pittura e ora invece la fama cioè la giotto che tra l'altro è stato un allievo di Cimabue che ha superato il maestro sicché la fama di colui cioè la fama di Cimabue è oscura così l'uno all'altro Guido cioè Guido Cavalcanti a Guido Guinizelli ha tolto la gloria della letteratura cioè sta dicendo che nella letteratura italiana Guido Guinizelli che tra l'altro è stato il fondatore del dolce Stilnovo è stato superato da Guido Cavalcanti e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del Nido ecco in questa perifrasi ecco cosa sta dicendo è forse è nato colui che supererà tutti e due ecco in questa perifrasi probabilmente Dante intende se stesso che appunto supererà i due Guidi diventando l'esponente più importante del dolce Stilnovo allora è veramente curioso che in un momento in cui Dante stesso fa pronunciare una ringa contro la vanagloria dell'ingegno umano ecco dichiari però la sua superiorità nella letteratura probabilmente dicono alcuni studiosi lo fa proprio per sottolineare che comunque la sua fama sarà anch'essa effimera come tutte le altre fame terrene come tutti gli altri successi mondani anche se Dante è rimasto diciamo il sommo poeta questo è un altro discorso allora quindi il mondarromore appunto la fama terrena non è altro che un alito di vento e con altra metafora ad indicare come appunto la fama sia qualcosa di passeggero è un alito di vento che ora viene da un lato e ora viene dall'altro e cambia nome perché cambia direzione che voce avrai tu più cioè che fama potrai avere se vecchia scindi da te la carne cioè se muori da vecchio piuttosto che se fossi morto da neonato prima di da neonato da bambino prima di diciamo non nominare più il pappo e il dindi che sono diciamo parole proprie del neonato no? pappo per dire pappa e dindi per dire monete proprio opere del linguaggio infantile quindi avrai la stessa fama sia che sei morto da vecchio sia che sei morto da neonato dopo che sono passati mille anni che mille anni rispetto all'eternità è uno spazio di tempo più breve di un battito di ciglia rispetto al cielo alla spera che in cielo gira più lentamente che è il cielo delle stelle fisse quindi praticamente ecco dopo mille anni la fama di un ingegno anche del più alto ingegno sarà comunque passata anche perché mille anni rispetto all'eternità sono come un battito di ciglia ecco questo ci vuole dire Dante e veniamo alla sesta sequenza sesta e ultima sequenza dal verso 109 al 142 in cui viene indicato un altro personaggio anche se questo personaggio non parla e tutta la sua storia viene raccontata da Oderisi da Gubbio Provenzano Salvani è un altro esempio di superbia in questo caso di superbia che deriva dal potere politico perché era signore di Siena era capo Ghibellino tra l'altro come capo Ghibellino vinse contro i Guelfi Fiorentini nel 1260 nella battaglia di Montaperti e fu così superbo nel mantenere il suo potere politico così arrogante così presuntuoso che ora deve pagare Fio deve scontare questa superbia appunto nella cornice dei superbi colui che del cammin si poco piglia dinanzi a me toscana sono tutta allora a parlare sempre o delisi da gubbio che indica appunto l'anima accanto a lui che tra l'altro anzi accanto a lui davanti a lui che cammina molto lentamente perché forse il peso del masso la grandezza del masso che questi superbi portavano sulla cervice era diciamo paragonabile alla propria superbia quindi questi massi è probabile che non avevano tutti la stessa pesandezza e la stessa grandezza quindi evidentemente se Provenzano Salvani è così affaticato da questo masso tanto che cammina molto lentamente e non parla e al posto suo parla o delisi da gubbio probabilmente ecco la sua superbia fu veramente tanta e quindi sconta un peccato di superbia molto grande e e ora appena in Siena sempi spiglia onde era sire quando fu distrutta la rabbia fiorentina che superba fu a quel tempo siccomora è putta la vostra nominanza è color d'erba che viene e va e quella discolora per cui ella esce della terra acerba e io a lui tuo vero dirmi ancora buona umiltà e gran tumore mappiani ma chi è quei di cui tu parlavi ora quelli è rispose provenzanza alvani ed è qui perché fu presuntuoso a recarsi in a tutta alle sue mani ito è così e va senza riposo poiché morì cotal moneta rende asso di spar chi è di là troppo oso e io se quello spirito cattente pria che si penta l'orlo della vita quaggiù dimora e quassù non ascende se buona orazione lui non ha ita prima che passi tempo quanto visse come fu la venuta lui la gita quando vivea più glorioso disse liberamente nel campo di siena ogni vergogna di posta s'affisse e lì per trar l'amico suo di pena che sostenea nella prigion di carlo si condusse a tremare per ogni vena più non dirò è scuroso che parlo ma poco tempo andrà che tuoi vicini faranno sì che tu potrai chiusarlo allora in questi due versi c'è un'altra profezia dell'esilio questa volta fatta da Oderisi da Gubbio quest'opera li tolse quei confini allora quindi colui che di 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 cammina così lentamente e del suo nome risuonò tutta la Toscana e ora a mala pena si mormora di lui a Siena Pispiglia nel senso di mormorare è una figura onomatopeica e allora Siena di cui era signore quando fu sconfitta la rabbia fiorentina l'orgoglio fiorentino che a quel tempo era superba così Firenze era superba così come ora è corrotta allora era signore di Siena capo Ghibellino quando appunto affrontò i guelfi fiorentini nel 1260 nella battaglia di Montaperti e li sconfisse ecco Dante in poche parole ecco si scaglia contro Firenze per chi dice che a quel tempo Firenze era superba era orgogliosa mentre ora è solo corrotta cioè rispetto a quei tempi Firenze era più grande più potente ora le rimane solo la decadenza della corruzione quindi come vedete qui abbiamo anche un chiasmo no? perché superba va computa mentre a quel tempo e ora che sono indicazioni temporali vanno insieme no? quindi abbiamo un chiasmo A B B A la vostra fama è come il colore dell'erba quindi anche qui abbiamo una metafora che viene va e colui per il quale essa esce esce spunta dalla terra ancora acerba quello stesso la discolora ce la fa a passire allora chi è questo? è il sole no? quindi abbiamo anche una perifrasi quindi il sole che per il quale per il quale calore no? essa esce dalla terra ancora acerba la fa a passire però voglio dire il periodo di tempo dallo spuntare dell'erba fino al suo a passire è un periodo di tempo molto breve può essere può durare anche per esempio nella calura estiva può durare anche una sola giornata quindi ecco la fama è molto veloce a passare e io a lui ecco vedete Dante si sente coinvolto in prima persona tanto che risponde a Oderisi da Gubbio dice le tue vere parole mi stimolano una grande umiltà e mi 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 appianano cioè cioè mitigano la mia grande superbia ecco quindi Dante riconosce la sua grande superbia ma chi è colui di cui tu ora parlavi e allora Oderisi gli risponde quello è rispose Provenzano Salvani ed è qui perché fu presuntuoso arrogante a dominare tutta Siena nelle sue mani cioè fu arrogante fu presuntuoso per codi Ubris durante la sua signoria di Siena ito e così e va cioè poi che morì cioè da quando è morto cammina così e continua a camminare senza riposo tale moneta cioè tale punizione tale pena paga per soddisfare Dio chi di là ha troppo osato cioè chi di là è stato troppo presuntuoso naturalmente moneta è pure una metafora però Dante si fa quattro conti praticamente Provenzano Salvani era morto in una battaglia nella battaglia di Colle di Val d'Elsa quindi era morto all'improvviso anzi qui noi vediamo un'immagine di Provenzano Salvani morto perché la testa sulla lancia è quella di Provenzano Salvani perché pare che i suoi nemici lo uccisero e poi gli tagliarono la testa e la misero sopra una lancia e la trasportarono per tutto il campo quindi Dante appunto sa che Provenzano Salvani è morto diciamo all'improvviso cioè è morto è morto in battaglia e quindi non ha avuto il tempo di pentirsi di pentirsi almeno quando era in vita perché fino al momento della battaglia era rimasto superbo e allora se si è pentito si è pentito in fin di vita cioè all'ultimo momento prima di ispirare però voi sapete che quelli che si pentono all'ultimo istante vanno a finire nel purgatorio e stanno nel purgatorio un periodo di tempo pari nell'antipurgatorio scusatemi stanno nell'antipurgatorio un periodo di tempo pari alla durata della loro vita e allora come mai che Provenzano Salvani è andato direttamente nel purgatorio va bene non so se mi sono spiegata e infatti eccolo qua eccola qua la domanda di Dante dice se quello spirito che è attente prima di pentirsi l'ultimo istante della vita dimora qua giù cioè nell'antipurgatorio e quassù non sale nel purgatorio se le preghiere di persone buone non lo aiutano prima che sia passato tanto tempo quanto è vissuto come fu concessa a lui la venuta cioè come come gli è stato permesso di venire qui direttamente nel purgatorio ecco e allora Oderisi da Gubbio spiega a Dante che mentre era in vita mentre era al massimo della sua gloria politica Provenzano Salvani si umiliò chiedendo l'elemosina nella piazza del campo di Siena per riscattare la prigionia e salvare dalla morte un suo amico che era prigioniero di Carlo D'Angio in Francia vedete infatti quando vivea più glorioso cioè quando era al massimo della gloria liberamente cioè di sua spontanea volontà nella piazza del campo di Siena deposta ogni vergogna si affisse cioè si pose come un mendicante a chiedere l'elemosina e lì per far uscire l'amico suo dalla prigionia dalla pena che egli sosteneva che egli sopportava nella prigione di Carlo D'Angio si costrinse a tremare per ogni vena cioè per ogni fibra del corpo vena è un asineddoche che sta per corpo quindi lui così orgoglioso Provenzano Salvani così orgoglioso così superbo così arrogante eppure per salvare l'amico dalla prigionia e da una morte sicura si umiliò e si mise a chiedere l'elemosina nella piazza del campo di Siena per accogliere i soldi e riscattare appunto l'amico ecco proprio questa umiliazione vedete quest'opera li tolse quei confini questa umiliazione lo salvò dalla sosta nell'antiburgatorio però ecco qui in questi due versi la profezia dell'esilio dice non dirò più nulla e so che parlo scuro cioè perché tu non conosci questa umiliazione lo dice a Dante ma passerà poco tempo che i tuoi compagni i tuoi concittadini faranno sì che tu potrai commentare questo tipo di umiliazione che osare nel senso di commentare perché Dante purtroppo ecco una volta in esilio anche Dante è costretto a chiedere ospitalità a mendicare l'ospitalità e a mendicare il pane sì come sa di sale il pane altrui dirà poi in un verso del paradiso quindi ecco questo canto finisce e questo canto che contiene come sapete un motivo autobiografico la superbia di Dante finisce anche con la profezia dell'esilio appunto che si trova in due versi di un'esilio di un'esilio di un'esilio di un'esilio di un'esilio